Ma che? Per noi non c'è più scappo. Che ci minaccia? Nuovo omino bianco additivo 100. Cos'è di speciale? La sua formula è innovativa. L'omino bianco 100 elimina oltre 100 macchie. Anche le più difficili. Inizia ad agire già a 30 gradi. Le nostre macchie più forti sono già state eliminate. Nessuno può resistervi. O forse... Buffa. Nuovo omino bianco 100. Nessuno toglie più macchie.